Anticipazioni Beautiful, lunedì 24 maggio 2021. Steffi conferma finalmente a Liam di averlo baciato perché spinta e manipolata da Thomas che attraverso una richiesta telefonica l'ha pregata di riavvicinarsi al suo ex, in modo da avere accesso ad Hop con estrema facilità. La Seo si penta amaramente di aver agito in tal senso. Non avrebbe mai dovuto provocare tale dolore né a se stessa né al matrimonio della sua sorrellastra. Nel frattempo allo chalet Hop è molto arrabbiata e insiste con Thomas. Sposare subito da Buckingham è un errore enorme. Non è ancora sicuro di quel che prova e in aggiunta a ciò Douglas non è pronto a vederlo accanto ad un'altra donna. Lo stilista però non vuole ascoltarla. Hop stanca lo lascia un attimo per andare a controllare Beth. Lo stilista così approfittando del momento si avvicina al figlio invitandolo a fare più presto qualcosa per fermare le sue nozze con Zoe. Per non spaventarlo dice che si tratta di una sorta di gioco. Il bambino quando vede rientrare da Logan non esita a spendere dolcissime parole per lei pregandola di ritornare con Thomas.